Maxi operazione la scorsa notte della compagnia carabinieri di Urbino nel complesso abitativo di Urbino 2 per la prevenzione del contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e l'immigrazione clandestina. Notevole il dispiegamento di forze messe in campo, 24 carabinieri, 12 pattuglie ed unità cinofile che poco prima dell'alba hanno setacciato il complesso abitativo che si trova ai confini del territorio comunale con quello della frazione di Gallo di Petriano. Urbino 2 è una sorta di hotel house urbinate, una struttura edificata agli inizi degli anni 80 concepita come residenza studentesca, poi per svariati motivi legati anche alla crisi industriale ben presto è diventato un complesso per la maggior parte abitato da extracomunitari, già oggetto in passato di mirati servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine e dove in passato si sono create sacche di illegalità legate all'immigrazione e dallo spaccio. Proprio per presidiare e monitorare quartieri periferici e complessi è da riqualificare e garantire nel contempo la serena convivenza dei cittadini che gli uomini del comandante della compagnia di Urbino Renato Puglisi hanno identificato 47 persone di origine extracomunitaria, 16 delle quali già con precedenti penali, controllato 29 veicoli ed effettuato diversi controlli alla circolazione delle principali vie di comunicazione con il complesso Urbino 2. Sono state anche eseguite 6 perquisizioni domiciliari e 8 personali nel corso del servizio straordinario. Al termine dell'operazione un cittadino di origine magrebina è stato segnalato all'autorità amministrativa per possesso di modiche quantità di hashish subito sequestrata dai militari dell'arma.